Le opere di Paganini sono tutte opere virtuosistiche, quindi non potrei dire che ho una preferita. Certamente una cosa molto importante legata oggi ancora a Genova è andare con emozione a vedere il bellissimo violino, il guardiere di Gesù che è esposto qui e questa per me è la nozione più grande, forse ancora più grande che esibire ebrani di Paganini perché questo l'ha toccato lui proprio con le sue proprie mani.